Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con quello che è successo con Shiba Inu in questi giorni poiché sono all'incirca 5 giorni che non ve ne parlo e soprattutto come al solito ci sono sempre notizie positive e purtroppo anche negative vi anticipo solo che abbiamo visto un tweet da parte di Playside Studios per quanto riguarda i due giochi che stanno sviluppando per Shiba Inu che verranno rilasciati entro la metà del 2022 soprattutto vediamo anche alcune notizie molto importanti da parte di Vitalik Buterin che sarebbe il fondatore di Ethereum vediamo anche alcuni tweet molto interessanti da parte di Wendy Rogers che sarebbe la senatrice dell'Arizona che vuole rendere Bitcoin valuta legale però soprattutto ha anche menzionato Shiba Inu e Dogecoin però adesso basta parlare e iniziamo subito perché ripeto che ci sono tante cose super interessanti per quanto riguarda Shiba Inu ah e soprattutto voglio anche farvi una piccola analisi del prezzo per poi capire quale potrebbe essere l'andamento del prezzo di Shiba Inu in questi giorni oppure in questi mesi se vi state chiedendo cosa ho in fronte ieri mentre camminavo non ho visto una pianta e mi sono diciamo fatto male però niente di che sto benissimo può darvi un po' fastidio però non mi preoccupate in questi giorni spero che si tolga detto questo adesso iniziamo però prima di iniziare come al solito vi invito sempre a lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi perché sapete ormai che è importantissimo e se non siete iscritti per rimanere aggiornati 24 ore su 24 su tutto quello che pubblico iscrivetevi al canale attivando anche la campanella qui in basso perché come dico sempre queste notizie sono time sensitive quindi l'importante è venirne subito a conoscenza le cripto sono molto volatili e se siete investitori di lungo oppure breve termine avete bisogno di queste notizie per capire l'andamento dei prezzi per quanto riguarda il mercato vediamo sempre una situazione positiva bitcoin sempre sui 38 mila dollari e potremmo arrivare piano piano ai 40 mila ethereum è sui 2700 vediamo anche tante altcoins che stanno reagendo positivamente ai prezzi soprattutto perché bitcoin sta performando molto molto bene nelle ultime 24 ore vediamo tanti gainers come ad esempio quanta leo token, ethereum classic, kusama, i cash, zeta cash, tesos e questo è positivo perché come ho detto ieri molti soldi stanno andando nelle altcoins gli investitori stanno scegliendo di rischiare rispetto a bitcoin per quanto riguarda il prezzo invece di shiba inu siamo sui 0.21 con un più 0.75 nelle ultime 24 ore la capitalizzazione di mercato è sugli 11 miliardi di dollari e il volume scambiato nelle ultime 24 ore invece sta scendendo attenzione ragazzi perché per quanto riguarda il prezzo ci troviamo in una fase di lateralizzazione questo qui è il grafico delle 4 ore di shiba inu tether vediamo soprattutto il prezzo che continua a scendere e poi a risalire e sembra quasi una fase di accumulo che potrebbe farci sperare in un bel pump a breve ovviamente queste sono solo diciamo supposizioni per quanto riguarda l'RSI che sarebbe il relative strength index non siamo né in un iper venduto e né in un iper comprato ci troviamo al centro per adesso infatti vi specchio un po' la fase di lateralizzazione di accumulo di cui sto parlando come prima notizia volevo mostrarvi questa perché in passato vi ho parlato dello shibers e ragazzi attenzione lo shibers non è ancora il nome ufficiale del metaverso di shiba inu perché per chi se lo fosse perso shiba inu sta creando anche un metaverso che sarà strettamente legato al gioco che verrà pubblicato da parte di playside studios e in questi giorni in queste settimane verrà comunicato il nome ufficiale dello shibers che sarebbe il metaverso di shiba inu però continuiamo perché il 28 gennaio 2022 qualche giorno fa è stato pubblicato questo tweet da parte di vitalik buterin che sarebbe il creatore di ethereum l'account ufficiale in questo tweet c'è scritto che vitalik buterin ha restituito 100 milioni di shib che gli erano stati donati perché per aiutare gli ospedali in india contro il covid adesso voglio mostrarvi un attimo il sito di bigger entertainment perché per chi non lo sapesse bigger entertainment con steven cooper sta cercando di bruciare più shib possibili perché più shib vengono bruciati più il valore del token stesso aumenta ovviamente perché meno ce ne sono in circolazione più il suo valore è maggiore e tramite bigger entertainment e tramite steven cooper hanno creato playlist eventi e soprattutto anche una sezione di gaming infatti se andate su bigger entertainment e cercate e andate su games vedrete che c'è possibilità di giocare a questi giochi eccoli qui sono semplici giochi anche divertenti alcuni e più giocate a questi giochi più escono pubblicità e i soldi che vengono ricavati da queste pubblicità vengono poi bruciati in shib non vi preoccupate perché tutti questi coin burn sono visibili tramite hitherscan e spesso anche steven cooper su twitter pubblica questi coin burn che sono ripeto verificabili infatti qui a destra leggiamo total coins burned con il numero di coin bruciate vediamo l'hitherscan che sarebbe il sito che permette di visualizzare questi coin burn ed è la cosa più importante ripeto con tutte le playlist che sono state utilizzate vediamo tutte le transazioni ne clicco una a caso e vi faccio vedere eccolo qui questo hitherscan e qui vediamo anche il valore di shib che sono stati bruciati in questo caso 10 dollari ovviamente come dico sempre bisogna bruciare più coin possibili perché la circulating supply di shiba inu è di 500 trillions o anche di più se non mi sbaglio quindi c'è bisogno ripeto di bruciare più coin possibili e questo è un ottimo passo perché ripeto steven cooper e bigger entertainment stanno facendo il massimo e già è un buon inizio un'altra notizia super super bullish di shiba inu è quella da parte di wendy rogers che sarebbe la senatrice dello stato dell'arizona che come già avevo anticipato in questi giorni vuole rendere bitcoin valuta legale in arizona questo però per ora non è possibile perché la costituzione degli stati uniti limita questa cosa sta limitando per legge questa cosa però lei sta facendo di tutto per far sì che ciò accada soprattutto anche pubblicato un tweet inerente a shiba inu in cui c'è scritto che io non capisco cos'è shib non capisco cos'è doge però capisco cos'è la libertà le persone dovrebbero essere capaci di comprare qualsiasi criptovaluta loro vogliano e soprattutto anche se non sono buone come bitcoin ve l'ho tradotta così al volo però per farvi capire che la senatrice americana dell'arizona ha fatto un tweet in cui parla di shiba inu e doge questa notizia è bullish per tutto ovviamente l'ecosistema di shiba inu e doge stesso e soprattutto questo anche per farvi capire quanto è forte la shibarmi che nei commenti secondo me avrà fatto di tutto e di più per farsi notare e infatti così è stato un altro articolo altrettanto importante è quello di playside games per chi non lo sapesse shiba inu e playside games che sarebbe la casa di gaming più grande in australia quindi non stiamo parlando di una cosa così a caso hanno firmato un accordo di 8 mesi per far sviluppare il gioco di shiba inu stanno sviluppando questo gioco e playside studios ha pubblicato questo tweet molto interessante in cui elogia il team di shib definendolo fantastico e sottolineando che questo è solo l'inizio di qualcosa di grandioso inoltre stanno anche collaborando con william volk sempre per il gioco che è l'ex capo di activision ed è noto per aver realizzato la serie di call of duty quindi ragazzi non una persona a caso quindi per la metà per metà del 2022 vedremo questo gioco pubblicato verranno pubblicati due giochi uno play to earn e uno simile a un gioco di carte utilizzeranno gli nft shiboshi per questo gioco quindi sicuramente il prezzo reagirà bene io già vi ho detto che tra le tante meme coin shiba inu è la migliore per chi ha questi catalizzatori molto interessanti che sicuramente daranno un valore a tutto il progetto invece a differenza di doge coin che dipende tantissimo dai tweet di Elon Musk quando Elon Musk tweeta il prezzo subisce una variazione invece quando Elon Musk non tweeta il prezzo è sempre così stabile invece shiba inu l'abbiamo vista crescere piano piano abbiamo visto anche dei pump interessanti con un più 20% in un giorno soprattutto grazie alla shibarmi che è composta dalle persone come noi che seguono il progetto ma anche da diversi catalizzatori molto interessanti che sono semplici e non dipendono da Tesla o Elon Musk detto questo adesso prima di continuare voglio parlarvi di un progetto che reputo molto interessante per tutto quello che sta facendo e si chiama Hexagon Pay questo qui è il sito di Hexagon Pay che tra poco verrà anche cambiato ed è una criptovaluta molto interessante che verrà utilizzata come metodo di pagamento adesso voglio leggere un attimo quale è lo scopo in modo semplice perché reputo questo progetto davvero molto interessante Hexagon Pay è un token non inquinante che mira essere una criptovaluta utilizzata come metodo di pagamento il token consentirà di noleggiare ogni tipo di veicolo ecologico come scooter, elettrici, biciclette, auto elettriche verrà utilizzato anche per pagare in metropolitana e l'obiettivo principale sarà garantire transazioni veloci e sicure soprattutto come ho già detto prima vedremo tra poco il restyling del sito e soprattutto anche la pubblicazione di un'applicazione per smartphone che permetterà di fare tante operazioni interessanti quindi secondo me vi conviene seguire il progetto su Twitter all'incirca hanno quasi 10.000 followers è un progetto molto giovane però che ha tanto potenziale e vi ricordo che qui siamo sulla Binance Smart Chain quindi se volete acquistare il token è davvero molto semplice e ci sono gas fees basse l'ultima cosa importante è che la versione 2.0 di Hexagon Pay sarà caratterizzata da un'offerta ridotta e dalla riduzione al minimo delle tasse d'acquisto la conversione poi da V1 a V2 sarà semplice e si farà direttamente tramite il sito si farà direttamente lo swap questo intendo come al solito qui in basso in descrizione di questo video vi lascio il link per dargli un'occhiata adesso continuiamo perché ci sono altre cose interessanti per Shiba Inu per quanto riguarda CoinMarketCap sapete benissimo quello che è successo in passato cioè che hanno aggiunto alcuni indirizzi fittizi a Shiba Inu che sono ancora tuttora disponibili e soprattutto ragazzi CoinMarketCap ha pubblicato questo tweet in cui comunicava la decisione del CEO di Robinhood di non listare Shiba Inu e questa notizia la reputo molto negativa perché CoinMarketCap è seguitissimo ovviamente su Twitter e soprattutto non ha senso secondo me pubblicare una notizia del genere per diffondere food perché in questo modo stanno diffondendo food su Shiba Inu le persone se vedono un tweet del genere vanno in panico e dicono come mai è così importante questa notizia infatti secondo me non ha molto senso per CoinMarketCap pubblicare queste notizie inerenti a Shiba Inu visto che sappiamo benissimo che Robinhood è da mesi che sta facendo questo cioè prima dice che risterà Shiba Inu poi si tira indietro diffondere food sui progetti significa solo abbatterli in un certo senso perché le persone vendono e il prezzo scende ora voglio mostrarvi sempre un'altra notizia interessante perché ieri vi ho parlato dell'India l'India ha ufficialmente introdotto una regolamentazione che rende legale nel paese l'utilizzo delle criptovalute perché ieri vi ho detto che forse avremmo visto una regolamentazione e così è stato e ha anche introdotto una tassa del 30% sui guadagni eventualmente generati dalle cripto notizia super interessante volevo mostrarvi anche quest'altra riguardante la Russia perché la Russia possiede il 12% delle criptovalute nel mondo il 12% è tantissimo e super giù sarebbero 214 billion cioè 214 miliardi di dollari cioè un valore molto molto importante e sicuramente vi dico che il bano non avverrà perché sono tanti milioni e miliardi che ci sono in gioco prima di lasciarci cosa importantissima seguitemi anche su Instagram mi trovate come Stefano Castiello ho il profilo privato attenzione inviatemi la richiesta io ve l'accetto perché c'è un altro profilo pubblico che tenta di contattare i miei iscritti ovviamente è un profilo finto che mi copia e tenta ripeto di contattare i miei iscritti per farli investire in CD Scam inviatemi la richiesta non appena posso ve l'accetto è molto importante perché in questi giorni pubblicherò una foto e i primi 10 commenti che ricevono più mi piace avranno la possibilità di organizzare una video call con me quindi seguitemi su Instagram detto questo vi ringrazio tanto per la visione di questo video vi invito sempre a dare un'occhiata in descrizione perché trovate i vari link con i bonus per Young Platform che da 10 euro di bonus il bonus di Crypto.com 25 dollari eccetera e soprattutto se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per supportarmi ogni mi piace che prendo fa bene la mia ferita qua in fronte sembro Harry Potter e soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi grazie mille a tutti per la visione noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao sembra Harry Potter è stato bellissimo sembra Harry Potter a domani